In questa lezione parliamo di rotoscoping, o quantomeno parliamo di una delle tecniche disponibili in After Effects per effettuare rotoscoping. Questa tecnica si appoggia alla capacità che abbiamo visto delle maschere di interpolare la propria forma da un fotogramma all'altro. Innanzitutto partiamo da che cos'è il rotoscoping. Il rotoscoping è una tecnica che consente di ricalcare il movimento di un oggetto semplicemente disegnando fisicamente sopra il fotogramma stesso. Una tecnica che già negli anni 80 veniva molto usata per particolari effetti di sovrapposizione di disegni su immagini filmate e che comunque viene tuttora usata per realizzare degli effetti particolari sulle immagini. Cominciamo subito a vedere come iniziare. Innanzitutto andiamo in una posizione del filmato in cui l'oggetto che ci interessa scontornare, o quantomeno su cui ci interessa fare il rotoscoping, sia ben visibile. In questo modo possiamo creare una maschera che abbia già il numero di punti sufficienti. Dopodiché selezioniamo il livello che ci interessa, prendiamo lo strumento pennino e cominciamo a disegnare la nostra maschera. Vedete che possiamo cliccare e trascinare per creare dei vertici che abbiano già la forma curva. Vedete che sto creando una maschera abbastanza grossolana. Il rotoscoping infatti generalmente non prevede una forma perfetta dell'oggetto che viene scontornato, ma è un modo per richiamarne la sagoma. Una volta conclusa la nostra maschera, ecco il risultato. After Effects immediatamente la buca, quindi taglia tutto il resto, e a questo punto possiamo cominciare con l'operazione di rotoscoping. Non dobbiamo fare altro che mostrare la maschera sul tracciato, quindi sulla traccia corrispondente alla forma della maschera, attivare l'animazione. In questo caso mi metto al 100%, così riesco a vedere un po' meglio la nostra immagine. Sbarra spaziatrice, vi ricordo, per muovervi con la mano per fare il panning all'interno della vista. Dopodiché quello che devo fare non è altro che muovermi all'indietro o in avanti, come preferisco iniziare, dentro il filmato e correggere la maschera. Naturalmente abbiamo il vantaggio, utilizzando un programma come After Effects, di non dover necessariamente creare frame per frame il nostro rotoscoping come si faceva una volta. Infatti il rotoscoping nasce come procedimento che su ogni fotogramma ricalcava l'immagine che volevamo ottenere. In questo caso io posso invece sfruttare le capacità di interpolazione di After Effects per muovermi indietro di qualche fotogramma e andare qui a fare le correzioni. Mi sarà sufficiente andare a selezionare i vertici che voglio modificare, vedete, basta cliccare su un vertice, spostarlo e cercare di riprodurre nuovamente la sagoma che voglio utilizzare. Notate che in questo modo ho la necessità di correggere costantemente anche l'andamento delle maniglie delle curve di Bezier. After Effects mi mette a disposizione la possibilità, cliccando col tasto destro in un punto qualsiasi della maschera, di accedere all'opzione tracciati maschera e forma e scegliere la funzione roto Bezier. Una funzione particolare che mi permette di automatizzare la gestione delle curve. Infatti vedete che sono sparite le maniglie, adesso ho la possibilità di gestirle in modo un po' più immediato. Mi sarà sufficiente muovere un punto e vedete che After Effects mantiene l'andamento della curva sempre il più uniforme possibile. Fermo restando che io ho comunque la possibilità, cliccando con mela o control su Windows e alt su un vertice, vedete che il cursore cambia forma e ho la possibilità di tirare le tangenti, le maniglie di questa curva per renderla più o meno spigolosa. Ma non ho la necessità di adattare le maniglie alla forma che mi interessa. Sarà After Effects a mantenere l'andamento il più uniforme possibile. Adesso andiamo avanti con l'adattamento della curva alla sagoma dell'oggetto che voglio scontornare. Notate che avendo attivato l'opzione roto Bezier adesso dovrò mettere a posto anche alcuni vertici di quelli che avevo creato precedentemente poiché sono stati inevitabilmente modificati. Però vedete questo è quello che succede, After Effects crea l'interpolazione e io posso decidere in qualsiasi momento naturalmente che quello che lui ha fatto in automatico non mi vada bene, per cui posso andare in una posizione intermedia e modificare per essere sicuro che quello che si vede sia effettivamente quello che io voglio. Adesso vediamo il procedimento di creazione dell'otoscoping un po' accelerato in modo da non perdere eccessivamente tempo. Grazie Avete visto come a volte sia necessario andare a toccare fotogramma per fotogramma, però in linea di massima buona parte del lavoro di interpolazione viene gestito da After Effects. Una volta effettuato il lavoro di rotoscoping gli utilizzi che ne possiamo fare sono molteplici. Il più semplice è quello di considerarla una maschera, anche se generalmente questo viene in realtà poi utilizzato per scopi secondari. Una cosa che possiamo fare, ad esempio, è utilizzare questa maschera per applicare degli effetti sopra il livello. Due esempi possono essere degli effetti che troviamo nel gruppo Genera. Il primo che vi faccio vedere è sotto il gruppo Genera l'effetto Tratto. È molto semplice da gestire, nel senso che l'unica cosa che fa è disegnare la maschera. Guardate, chiedo ad After Effects di nascondere le maschere in modo da visualizzare solamente il tratto, diamolo magari al 50% così da vedere per intero quello che dobbiamo, e forziamo la risoluzione piena, così vediamo bene. Ecco, vedete, in questo caso questo effetto mi permette innanzitutto di scegliere quale tracciata utilizzare. Ovviamente ho una sola maschera, quindi userò quella. Nel caso in cui ne avessi più di una, potrei forzare l'utilizzo di più maschere. Posso poi decidere di che colore voglio il bordo che sto per generare, la dimensione di questo bordo, quindi ho uno spessore che posso indicare, ho la possibilità di indicare la durezza del pennello, questo è importante, esattamente come se fosse un pennello di Photoshop o un pennello di After Effects stesso. Mi permette di decidere quanto morbido sarà il bordo del pennello che sto generando, quindi da un pennello molto netto fino a un pennello molto morbido, ho la possibilità di decidere l'opacità di questa traccia, ho la possibilità di decidere dove si debba trovare l'inizio del tracciato che sto creando e dove si debba trovare la fine. Questo, come vedete, mi permette di animare anche il movimento della linea. Ho infine la possibilità di decidere un'eventuale spaziatura, il che mi permette di ottenere su valori molto bassi delle linee tratteggiate. Notate come raggiungendo una certa spaziatura il risultato che otteniamo è che anziché tracciare una vera linea, viene tracciato un bordo fatto da puntini. In questo caso ho anche la possibilità di decidere se dipingere sull'immagine originale o su trasparente, quindi il risultato sarà che vedo solo la sagoma, o addirittura posso chiedere che il tratto sia riempito dell'immagine. Quindi in pratica, lo vediamo ingrossando un po' il pennello, il risultato è che il contenuto dei pallini non è il colore, ma è l'immagine stessa. Notate che in questo momento stiamo visualizzando l'immagine comunque tagliata. Mi basta disabilitare la maschera scegliendo nessuno, vedremo meglio questo menu in una lezione fra due capitoli, e in questo modo togliamo l'effetto di maschera e vediamo solamente i pallini. Naturalmente l'animazione continua ad esserci e quindi il risultato che abbiamo è che questa maschera segue rimanendo tracciata. Vediamo l'immagine originale, quello che otteniamo, torniamo ad avere un pennello un po' più piccolo, e un bordo fatto di pallini rossi che segue la nostra sagoma. Questo è un esempio molto semplice e realizzato in maniera approssimativa. Non abbiamo creato un rotoscoping con molti vertici e quindi molto accurato, ma vedete questo è un utilizzo che se ne può fare. Un altro effetto molto simile, forse un po' più gradevole come risultato, è sempre nel gruppo genera l'effetto scarabocchio. In questo caso quello che viene generato non è un tratto che contorna l'oggetto, ma è una serie di linee casuali che ricordano effettivamente quelle di uno scarabocchio in movimento. Imposto con la B sulla tastiera all'inizio dell'area di lavoro e con la N sulla tastiera alla fine dell'area di lavoro, così possiamo fare l'anteprima. Vedete qual è il risultato? Questo tratto scarabocchiato che viene generato all'interno della nostra sagoma. Anche in questo caso abbiamo una serie di controlli, possiamo decidere se usare una singola maschera o tutte le maschere e in che modo utilizzare le eventuali più maschere. Se ne usiamo una sola possiamo scegliere quale. Abbiamo la possibilità di decidere che riempimento utilizzare, quindi l'interno della sagoma, piuttosto che il bordo centrato, o il bordo all'interno o il bordo all'esterno, questo è riferimento alla maschera stessa, solamente la parte sinistra, solamente la parte destra del bordo. Abbiamo poi la possibilità di decidere che cosa vogliamo che sia il riempimento. Quindi possiamo lasciare un colore, come in questo caso, di cui possiamo gestire come al solito l'opacità, l'angolo, quindi l'inclinazione del tratto per decidere che sia più o meno inclinato, la larghezza stessa del tratto, quindi possiamo rendere anche delle linee più sottili. Abbiamo la possibilità di andare a scegliere tutte le opzioni del tratto, quindi deciderne, per esempio, quanto debba essere curvato. Vedete, può addirittura diventare una sorta di ghirigoro fatto di anelli, anziché essere così spezzato come uno scarabocchio. Abbiamo la possibilità di decidere la variazione della curva, quindi renderli meno uniformi, la spaziatura fra i segni, la variazione della spirale, la sovrapposizione, quindi quanto debba essere larga l'ampiezza del tratto, la variazione di ogni curva, quindi quanto possa essere irregolare. Vedete che abbiamo veramente parecchi controlli, possiamo controllare qualunque aspetto del tratto che viene generato. Abbiamo la possibilità anche qui di decidere inizio e fine del nostro scarabocchio e abbiamo poi la possibilità di gestire la deformazione, cioè decidere se la deformazione lungo l'animazione debba essere statica, quindi la curva non cambierà se non seguendo l'andamento del nostro tracciato, piuttosto che assalti, quindi ogni fotogramma sarà diverso dal precedente e non abbiamo controllo su questo, o arrotondato, cioè ogni fotogramma verrà interpolato con quello successivo. Abbiamo poi la possibilità di impostare il numero di deformazioni al secondo e quindi rendere le variazioni di questo tratto più o meno veloci, più o meno frequenti. Infine abbiamo un numero casuale che ci permette di ottenere risultati sempre diversi. Questo può essere utile nel caso in cui abbiamo più tratti sulla nostra immagine che vogliamo che siano simili, quindi con impostazioni uguali, ma che non siano esattamente lo stesso tratto. In questo caso basterà dargli numero casuale diverso e sebbene abbiano gli stessi valori il risultato visivo sarà diverso. E infine le opzioni per decidere che tipo di risultato ottenere. Su trasparente quindi vediamo solamente il tratto, sull'immagine originale, quindi vediamo il tratto sovrapposto all'immagine, o solo rivela l'immagine, un po' come abbiamo visto prima col tratto, in cui l'interno del segno non è più del colore che abbiamo scelto, ma ci si vede dentro l'immagine. In questo caso ripristino i valori predefiniti così da riavere i valori iniziali, ma cambio soltanto il rivela immagine originale. Notate qual è il risultato. In questo caso abbiamo la possibilità di simulare questa sorta di tratteggio fatto a mano con dentro la visualizzazione dell'immagine che abbiamo scontornato. Se andiamo magari ad allargare un po' il tratto, otteniamo un tratteggio un po' più ampio e otteniamo questa sorta di effetto tratteggiato sul nostro video. Questo è un risultato che può essere ottenuto grazie alla combinazione di maschere con il rotoscoping e effetti. Grazie. 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 Grazie.